e' un po' tornato ma si uscite sempre due non c'era la luce, era una torta e' un po' tornato e' un po' tornato e' un po' tornato a stare ma sono un po' e' un po' forte Giorgio 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 gli sta dando un pezzo di pare all'escavato all'escavato dell'escavato All'escavato E' una squadra Si sta distruggendo la squadra Uno sbancamento lo sta fredendo e non so tanto lui Grazie per la visione 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 Grazie per la visione